ehi ciao ciao a tutti giochiamo a calcio wow jason gioca a calcio mi unirò anche io sì amo il calcio sì per jason e alex è arrivato il momento di mangiare piatti cereali jason alex è ora di mangiare che cosa dici veloci avanti venite ok jason andiamo ok mangiamo ok ok ragazzi mangiate sì mangiamo sì mangiamo sarò il primo no 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 prima io no è tutto mio prima io prima io lascialo a me lascialo a me dalla me sì ce l'ho fatta ok sono il primo tocca a me adesso assaggiamolo no non mi piace no 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 adesso lo provo io mmm yummy super cattivo super yummy cattivissimo jason non mi piace questo sapore se non ti piace sai che cosa puoi fare che cosa andare a comprarne uno nuovo lo farò se non ti piace vai a comprare qualcos'altro ciao alex vendo cereali vendo cereali venite a comprare i miei cereali voglio dei nuovi e buoni cereali vendo cereali ehi quella ragazza vende cereali ehi voglio comprare dei cereali certo scegli pure questo per favore ok un dollaro mmm ecco fatto grazie non c'è di che arrivederci ciao eccolo il cereale che mi piace haha ho i miei cereali guarda qui ora ho i miei cereali wow posso provarli certo jason lascia che te ne dia un po grazie alex prego ora tocca a me mmm yummy mmm buono ora è molto meglio questa deve essere la casa di jason voglio dormire jason svegliati eccomi qui guarda qui che cos'è questo? è un segnale di divieto alla sveglia nessun divieto esci di lì mmm meglio molto meglio è ora di pettinarmi bellissimo alex sono pronto andiamo aspetta un attimo fermati ehi fermati qui fermati jason che c'è? c'è che non ti sei lavato i denti oh me ne sono dimenticato me li lavo subito me li lavo subito così va meglio mmm facciamo colazione è ora di fare colazione è ora di fare colazione oh no non ci credo si sono rovesciati tutti ehi guarda lì li hai rovesciati tutti tu? si pulisci subito allora forza ecco tutti i pezzi finito è pulito polizia ok ora mangiamo delizioso ora andiamo a scuola ora andiamo a scuola ora andiamo a scuola andiamo insieme a scuola ehi cosa? jason non ha preso il casco? ehi 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 vieni qui forza forza ehi jason devi indossare il casco ricordi? sì è vero molto meglio ora è protetto ok è ora di andare ehi poliziotto devi allacciare la cintura di sicurezza se non lo fai è pericoloso oh è vero dimenticavo la cintura di sicurezza hai ragione sei un salvatore guarda qui molto bene il mio lavoro qui è finito ciao ciao